Con 23 voti favorevoli e l'astenzione di Orfeo Goracci, comunista Umbro, l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato la risoluzione che recepisce e condivide i contenuti degli orientamenti per i programmi comunitari 2014-2020. Tra gli interventi previsti quelli per le aree interne, Orvietano, Fascia Penninica e Valnerina, e le aree urbane, Perugia, Terni, Città di Castello Foligno e Spoleto. Nel documento votato dall'Aula sono contenute alcune integrazioni all'atto dell'esecutivo relativamente alle aree interne, alle aree urbane e agli interventi a sostegno delle azioni per Perugia Capitale della Cultura 2019. Previsti poi il rafforzamento delle politiche di contrasto della crisi economica, di inclusione sociale e di sostegno alla domanda interna, l'invio in consiglio del rapporto di valutazione ex post previsto dalla normativa europea riguardante la precedente politica di finanziamenti comunitari, e poi il sostegno a un modello di agricoltura orientato al contrasto dei cambiamenti climatici, alla multifunzionalità e alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, la concentrazione di più risorse possibili sul sistema delle imprese per le quali il piano di sviluppo rurale è pensato. Per la programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione Umbria potrà disporre di risorse complessive per 1.774.000.000 di euro, ripartiti tra Programma Nazionale Sviluppo Rurale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Programma per il Lavoro dei Giovani e Fondo di Sviluppo e Coesione.